un xd 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 bai a tutti ragazzi per trovare questo nuovo video sono lo strollo73 oggi siamo su give up che è un gioco con il volume troppo alto praticamente è un gioco tipo get mario quasi tipo forse get mario ma ora capirete cos'è start io praticamente ok io devo andare piano piano con i livelli non devo premere give up perchè praticamente quello mi salva però bisogna vedere a quale livello arrivo c'è salto o più salto? no ok ci sta ci sta allora praticamente quanto io riesco ad arrivare lontano io non so certo allora andiamo avanti vediamo a quanto arriviamo ecco appunto brah ok no poi le ora non posso cominciamo a morire così allora ok cominciamo a romper il cazzo inoltre volevo dirvi che io il venerdì c'è un venerdì farò la sfida capottana ad esempio questo venerdì dovrò fare la sfida il venerdì dopo farò chat roulette ho toccato a malapena quei spuntoni so che so radioattivi capito ogni un venerdì sarà chat roulette e l'altro la sfida che ho visto che sono le cose praticamente più seguite ok ok e porca muttono oh non mi fa un cazzà sono le mani girate un po' io praticamente so solo al 20% del livello che muttono allora parca puttana parca puttana parca puttana oh resiste allora dai cazzo ce lo vuoi fare dai mamma mia parca puttana parca puttana parca puttana ok allora che sarà qualcosa di bello. Tanto c'è una musica di sottofondo che... No! Possibile! Non è possibile! Vabbè, questa è la mia coionaggine. Ma come vedete l'inquadratura? Se vede bene? Allora, poi penso che per i 50 o per i 100 video quando ci arriveremo, ovviamente non è che sarà proprio domani. Sto pensando di fare un montage. Che ne pensate? Io penso sia una bella idea! Oh, ce la fa! Ancora lui! Ritorna! Allora, cos'è? Ecco, vedete? Cos'è che si aggiungeva di bello? I pezzi di merda! Ecco, ho già sputato. Allora... Vedete come dovrei fare? Sì! Così! Anche così! Ok! Cos'è dovessi ha un... Oh! Sto già alla stanza 11! Oh! Oh! Corri! Lo sfugge! Ce la fa! Ce la fa! Così! Allora Allora Beh, allora 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 Perché dico sempre allora? Io non dico allora perché l'ho già detto troppo volte Ma qua So che mo' me esce un Vaffanculo al creatore del sto gioco Che Nessuno lo sa No, 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 no È baserio Scusa, no, 55 morti Sto al dodicesimo livello Per lui E' ancora lui Ancora lui Parte Non lo so più da nessuno Vince, vince, vince Vince, vince, vince Quanto oltre avevo risentito la musica di give up Vince, vince Ancora lui Oh, ma che Aspetta, fammi preparare Ok, sono morto Non si sa quanto volte solo per quel pezzetto Allora No No E dai Fermi Fatemi vedere quanto sta mi registrato 10 minuti 10 minuti Allora Cioè Potrei anche vedere da quantà Se da quanto sta mi registrato Però diciamo Controllo se il telefono Sta ancora registrato No No E dai Controllo se il telefono Sta ancora registrato 94 morti Per questo cazzo di livello Oh Vince, vince Ancora lui Vince Ce la può fare Nessuno lo impedisce Ok Stana Ce la devo fare Ancora lui Ancora lui 105 morti Ma una cosa impossibile Oh Oh S Ah, raga Stop e Stop e Preno e give up Che dico No, vabbè Ancora c'ho un po' Allora C'ho ancora un po' De pazienza De riserva Non penso di mai dare l'occhio Che mi guarda Oh Che cosa devo fare La C'è no Mi dovete spiegare Come devo fare La Allora Ok 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 Ancora lui Ancora lui Attacca lui Oh Cos'è Non posso sopravvive Oh Come cazzo Faccio Come cazzo Faccio Oh 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 Sopravvive Ancora lui ATTRA Oh 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 Non ce la posso Questa rosighetta come inizia a darmi al cazzo C'era tipo una presa in tiglio Allora, forse facciamo un commento che mi piace Se non siete iscritti, iscrivetevi Può essere decisino che secondo i più giochi di questo non lo so Bastate sulla pagina Facebook che trovate qui sotto Consigliatemi i miei giochi se volete farne Consigliatemi Non ci vediamo la prossima video Bala ragazzi